La provincia approva il bilancio di previsioni 2019-2021, il 45% delle entrate andranno allo Stato. Furti alla rocca nell'ultime notti, il gruppo di vicinato si attiva e controllerà le strade a partire da stasera. Il Touring Club italiano avvia l'iniziativa Aperti per tutti, tra gli 83 luoghi di cultura anche la Chiesa del Carmine. 100 scout aprono la settimana ecologica di Asmiu, domani puliranno la zona del cemitero di Mirteto. Più di 100 giocatori e allenatori della Massesi riuniti per la festa organizzata dal club Orlando Ricci. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con l'informazione curata da Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsioni 2019-2021. Il 45% delle entrate sarà prelevato dallo Stato, ma per il 2019 sono previsti 2 milioni e mezzo di investimenti. Il primo servizio è a cura di Benedetta Bianchi. Approvato con i voti favorevoli del centro-sinistra e l'astenzione del centro-destra il bilancio di previsione 2019-2021 della provincia di Massa Carrara, che risente ancora pesantemente del prelievo forzoso da parte dello Stato. Su 16 milioni 550 mila euro infatti che la provincia in cassa oltre 7 milioni, il 45%, vanno a Roma. Con ulteriori entrate senza vincolo di destinazione per circa 3 milioni di euro, la provincia di Massa Carrara può contare nel 2019 su entrate per la gestione delle funzioni fondamentali pari a 12 milioni 248 mila euro. Di positivo, ha precisato il presidente Gianni Lorenzetti, c'è il fatto che torniamo ad approvare un bilancio senza la necessità di far ricorso all'avanzo di amministrazione, come era stato concesso negli ultimi anni in contrasto con la normativa. Possiamo auspicare che sia finita la salita, ha detto. Decisivo per la decisione del centro-destra di astenersi l'inserimento della documentazione dei lavori sugli asfalti per 800 mila euro previsti nel piano degli investimenti. Il piano triennale prevede uno stanziamento complessivo di oltre 5 milioni e mezzo, 2 milioni e 478 mila euro sulla prima annualità. Moduleremo l'investimento differenziandolo annualmente, ha precisato il presidente, alternando l'intervento sugli asfalti a quello sulla difesa del suolo e ripristini. Oltre agli asfalti, per il 2019 sono in programma il ripristino della frana sulla provinciale di Lusciniano a Casola e Lunigiana. Lavori di consolidamento del movimento franoso sulla provinciale Podenzana, la manutenzione straordinaria del ponte di Tresana, la manutenzione delle officine dell'Istituto Meucci per 850 mila euro e la manutenzione allo Zaccagna. Ci sono poi 540 mila euro del bilancio ordinario per le progettazioni dell'alberghiero di Marina di Massa, del TAC e dello Zaccagna di Carrara. 70 mila euro per la permuta, con il comune di Massa per la scuola Alfieri. 240 mila euro andranno per la manutenzione stradale, 51 per le indagini e prove di carico sui ponti provinciali. Tra le spese, più di 5 milioni sono per il personale e un milione e mezzo per le utenze di luce, riscaldamento e acqua di tutti gli edifici della provincia, scuole comprese. Serie di furti in abitazione alla Rocca Massa nelle ultime notti. Il gruppo di controllo di vicinato, a partire da stasera, controllerà il quartiere e in caso di persone sospette allerterà subito le forze dell'ordine. Ancora Benedetta Bianchi. Nelle ultime sere nel quartiere della Rocca a Massa si è verificata una serie di furti o tentativi di introdursi nelle abitazioni, tre dal primo maggio a oggi. E gli abitanti che si sono costituiti in un gruppo di controllo del vicinato il 30 giugno del 2017, proprio a seguito di una serie di furti in abitazione, tornano a controllare le stradine del quartiere. Lo faranno a partire da questa sera e continueranno nelle prossime notti. Il primo episodio si è registrato la sera del primo maggio, intorno alle 21.30.22, ma i ladri non sono riusciti a portare via nulla e sono fuggiti, probabilmente a cortesi del rientro dei proprietari della casa. Poi altri due episodi, con persone all'interno della propria abitazione, sono stati segnalati e responsabili del gruppo Gianluca Vignaglia e Marco Baruffetti. Ieri sera, raccontano, suonavano in continuazione gli allarmi. Tra i residenti c'è stato un tantam di messaggi, così il gruppo di vicinato ha deciso di attivarsi per controllare che durante le prossime notti non accadano altri episodi e in caso di avvistamento di persone sospette avviseranno immediatamente le forze dell'ordine. Il controllo di vicinato è previsto dal protocollo di intesa siglato nel 2016 tra il Comune di Massa e la Prefettura di Massa Carrara, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione fra cittadini e fra questi le forze dell'ordine, prevenire episodi di inciviltà o di degrado urbano, permettere ai residenti di sostenere azioni di controllo e di prevenzione della microcriminalità. Una decina di residenti si dividerà in gruppetti e vigileranno nelle ore più critiche, dalle 23.30 fin verso le 4 di mattina. Passeggeranno, osserveranno che tutto fili liscio e nel caso allerteranno polizie e carabinieri. Giovanni Donselli, deputato dei Fratelli d'Italia, critica la decisione della regione toscana di assegnare a autolinee toscane, di proprietà dei francesi di Rapt, il servizio di trasporto pubblico locale. La Francia impedisce alle imprese degli altri paesi europei di partecipare a tali affidamenti, spiega Donselli. Il presidente Rossi invece pensa bene di forzare la mano per dare il via libera agli stranieri, anticipa persino la decisione del Consiglio di Stato. La sinistra toscana si affretta a regalare 4 miliardi della gara in palese violazione della concorrenza, dice ancora Donselli. Rapt è un soggetto pubblico che non paga imposte e non è soggetto a diva. Quello francese sui trasporti in Toscana conclude sarà così un vero monopolio. Oltre ai bus, la gestione del servizio tramviario fiorentino è già oggi in mano all'altra francese gesta. Ed è stata aperta nel pomeriggio la viabilità provvisoria da e per colonnata. A partire da oggi dunque il paese sarà accessibile seguendo il percorso della strada comunale senza necessità di transitare da Miseglia-Ponti di Vara. La realizzazione della viabilità provvisoria si è resa necessaria a seguito del cedimento registrato lo scorso 3 dicembre sulla strada comunale che aveva comportato l'interdizione totale al traffico. La circolazione su strada provvisoria è consentita con senso unico alternato, regolato da semaforo e soggetta un limite di 10 chilometri all'ora. Potranno transitare le auto, i camion del marmo e i pullman dei turisti. Sul tracciato è installato un sistema di monitoraggio continuo per verificare eventuali movimenti del terreno con una tecnologia analoga a quella già utilizzata sulla strada comunale e che aveva permesso di rilevare i cedimenti precedenti. I lavori sono stati realizzati da Ingra SRL che gestisce la cava La Piana nella zona dove si è registrato il movimento franoso. La società ha presentato al comune di Carrara un'offerta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione della strada provvisoria che l'amministrazione ha ricepito con un'apposita delibera di giunta. La progettazione, la direzione lavori e il collaudo dell'opera sono rimasti in capo invece al municipio. L'amministrazione fa sapere che sarà avviato a breve il procedimento per il ripristino definitivo della strada comunale. La provincia di Massa Carrara ha finanziato il ponte sul torrente Penolo sulla strada provinciale 20. L'intervento consentirà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura nelle seguenti modalità. Per il 2019 sono stati stanziati 50 mila euro per la progettazione che il sindaco di Tresana Matteo Mastrini vorrebbe fossero spesi per un ponte a due corsie. Per il 2020 sono stati stanziati 700 mila euro che potranno essere spesi per l'intervento di riqualificazione. Il ponte sulla strada provinciale 20 è un'infrastruttura strategica per i tre ristoranti collocati sull'arteria e per il salone ufficio sito a pochi metri. Il Touring Club italiano ha avviato l'iniziativa Aperti per voi per favorire l'apertura di luoghi di cultura. Tra gli 83 luoghi del patrimonio culturale italiano c'è la Chiesa del Carmine a massa. Oggi l'apertura ufficiale. Sentiamo. Il Touring Club italiano porta il progetto Aperti per voi a massa e apre con i suoi volontari la Chiesa del Carmine o di Santa Chiara ai piedi del castello Malaspina e nei pressi delle mura del 400. È stata inaugurata questo pomeriggio la presenza di Don Luca Franceschini, paroco della Chiesa, del Sindaco di Massa Francesco Perziani e di Walter Sandri, consoli del Touring Club per Massa Carrara. Ecco, siamo qui nella Chiesa del Carmine, nel complesso ex monastico di Santa Chiara e abbiamo accolto volentieri l'idea del Touring Club di proporre attraverso dei volontari l'apertura di questa Chiesa come inizio di un progetto di collaborazione per la valorizzazione dei beni culturali sul nostro territorio. E questa Chiesa costruita agli inizi del 500, che attualmente è praticamente la Chiesa più antica della nostra città, è in qualche modo l'inizio di questo percorso. L'intente è in quello di promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali, consentendo la visita ai luoghi solitamente chiusi al pubblico. L'iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità e alla passione dei volontari del Touring Club italiano per il patrimonio culturale. Allora, questa è un'iniziativa del Touring Club per tenere aperti i siti culturali italiani. A Massa partiamo con questa Chiesa, c'è in programma subito un'altra Chiesa Carrara, è perché la cultura in Italia ha la sua importanza. Quindi l'importante è farla, darla la possibilità di vederla a tutti i turisti e così. Vi dico che è appena uscito un articolo proprio di Italia Nostra l'altro giorno in internet, addirittura mi ha chiamato una studiosa americana che a fine luglio, primi di agosto, viene per vedere questa Chiesa perché è interessata a avere certe informazioni. La Chiesa fu fondata nel 1554 da Taddea Malaspina, figlia di Alberico Antonio II Malaspina, che qui venne sepolta. A navata unica, all'interno vi sono collocati tre importanti altari in marmi policromi. L'altare maggiore, separato dalla navata tramite una balaustra in marmo bianco a puano, è finemente lavorato ed arricchito da un bel repertorio scultorio, mentre su uno dei due altari minori, anch'essi in marmi policromi, si conserva una pregevole pala del XV secolo raffigurante la Madonna del Carmine, tradizionalmente attribuita a Bernardo Luini. Devo dire che l'amministrazione di massa, a nome mio e dell'assessore a cultura, ringrazia il Touring Club per questa bellissima iniziativa. Aperti per voi, quindi la disponibilità di volontari per poter mantenere aperte tesori preziosi, spesso poco visitati o visitabili, come la chiesa del Santa Chiaro del Carmine, cosiddetta, di massa, credo che sia un bellissimo momento. È bella questa compartecipazione tra l'associazione di Ocesi e l'amministrazione comunale che cerca di mettere a disposizione i propri mezzi e quello che è il proprio contributo. Io credo che sia una bellissima iniziativa di cui tutti noi dobbiamo essere contenti, dobbiamo approfittare anche di queste circostanze, queste giornate per visitare questi bellissimi luoghi che fanno parte di un'importante cultura, di un importante patrimonio artistico e culturale della nostra città. E quindi ecco che questi momenti sono momenti che arricchiscono l'offerta culturale, l'offerta anche turistica. E noi come amministrazione siamo vicini a questa volontà, a questa disponibilità, a queste iniziative, li affiancheremo e anzi cercheremo di proporne anche altre tutti assieme. I volontari accoglieranno i visitatori ogni sabato e domenica dalle 14 alle 18, assicureranno l'accoglienza e l'attività informativa e di orientamento. In vista delle elezioni comunali, domani sera si terrà la presentazione della lista civica Tresana nel cuore. Nella sala consigliare del comune, alle 21, l'attuale sindaco Matteo Mastrini presenterà ufficialmente la sua candidura e la sua squadra. Prende il via con un centinaio di scout la settimana ecologica Puliamo Massa. Domani mattina l'associazione AGEA pulirà la zona del cimitero di Mierteto, ma sono tantissime le adesioni all'iniziativa di Asmio e Comune di Massa. Ce ne parla Benedetta Bianchi. Inizia già domani con un giorno di anticipo e un centinaio di scout all'opera la settimana ecologica promossa da Asmio in collaborazione con l'amministrazione comunale per educare bambini e adulti al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa Puliamo Massa che culminerà domenica a 12 maggio con una pulizia del centro storico a cui saranno presenti anche il sindaco Francesco Persiani e la giunta armati di guanti e sacchetti coinvolge scuole, associazioni operanti sul territorio e privati cittadini. Tra le prime adesioni oltre ai molti istituti scolastici ci sono anche i ragazzi dell'associazione AGEA, associazione giovani esploratori e esploratrici a Puani. Domani mattina dalle 9.30 alle 12 puliranno la zona del cimitero di Mierteto, il parcheggio di via Don Minzoni, il parco di via Foce e il vialetto di ingresso del Campo Santo. Non mancherà Lorenzo Porzano, amministratore unico di Asmio e la partecipata poi darà il suo supporto nel portare via i sacchi di rifiuti che i ragazzi accumuleranno. Lunedì 6 invece si armeranno di guanti e palette i ragazzi del gruppo Vespissi QDV, quelli della Vespa, che dalle 15 in poi puliranno le scogliere di fronte alla colonia Fiat. Nei giorni scorsi si erano uniti, l'ufficio scolastico territoriale, Don Primiero, parroco di San Carlo e Pariana, l'associazione Borgo del Ponte, Fondazione Anto, comunità terapeutica Montebrugiana, Italia Nostra, Lega Ambiente, Col Diretti, il WWF dei Ronchi e società sportive. Si sono aggiunte al momento alla settimana di Pugliamo Massa anche la SD Academy Massa, l'associazione sportiva Turano, Croce Oro, Lega del Cane, associazione Pallacanestro Massa. Ma tutti possono aderire il messaggio di Asmio e dell'amministrazione comunale. È proprio quello che se ognuno mantiene pulito il suo piccolo pezzetto davanti casa sarà una città più vivibile per tutti. Si è svolto ieri un incontro tra alcuni rappresentanti della sezione di Massa Montignoso di Italia Nostra e il nuovo assessore all'ambiente del Comune di Massa, Veronica Ravagli. Il presidente della sezione, Bruno Giampaoli, ha donato all'assessore la cartella dei possedimenti albericiani contenenti 56 disegni riprodotti dall'originale che si trova in archivio di Stato. Insieme alla cartella la sezione ha donato il libro sulla chiesa di Santa Chiara. L'omaggio del libro ha voluto ricordare il grande lavoro svolto dalla sezione per il recupero dell'antica chiesa anche in relazione alla prossima visita che si terrà sabato 4 maggio alle 16 organizzata dal Touring Club di Massa. Giampaolo ha ricordato la necessità di proseguire la raccolta dei quadri storici, il progetto di rifacimento di una coppia in marmo del portale del Biduino da ricollocare a San Leonardo a Tabernas Frigidas, il proseguimento della collezione di agrumi alla Villa della Rinchiostra e alcuni progetti di arredo urbano. Inoltre in collaborazione col WWF Italia Nostra ha proposto l'apertura di un parco naturalistico a Poveromo dove proseguirà la messa a dimora di decine di piante. Tanti altri argomenti insomma da affrontare che saranno proposti nei successivi incontri. Sarà inaugurato giovedì 9 maggio alle 12 in una delle sale della ex presidenza di Palazzo Tocale il calco del portale del Biduino. L'originale realizzato dal Biduino attorno al 1175 ornava l'entrata della chiesa di San Leonardo al Frigido ed ora si trova a New York. Saranno presenti il presidente della provincia Gianni Lorenzetti e la soprintendente Angela Accordon. Sono previsti interventi di storici ovviamente di esperti. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità a tra poco. Mi hai preso per mano ed insegnato ad amare. Mi hai regalato emozioni e sogni. Il 12 maggio è la festa della mamma e MB Garden ti aspetta con una scelta variopinta di fioriture tra cui trovare la pianta perfetta per emozionarla. Da MB Garden in via Aurelia Ovest a massa c'è una serra di colori, profumi e la pianta perfetta per la mamma. La mia macchina, bella ma... Da revisionare! Non preoccuparti, a Puana Spidi è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena, a disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimoni, matrimoni, cresimi, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa, con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 2774. Noi abbiamo scelto di tenerti aggiornato sui fatti della provincia. Più di 35 mila telespettatori ogni giorno scelgono Antenna 3, la televisione di casa tua. Chi altro? Giornata di festa, lunedì pomeriggio organizzata dallo storico club Orlando Ricci per il centenario della Massese. Appuntamento alla Comasca dalle 17.30 con più di 100 protagonisti della società bianconera. Sentiamo. Per il centenario della Massese lo storico club bianconero Orlando Ricci riunisce decine di ex giocatori, allenatori e dirigenti, oltre 150 adesioni e molti che per impegni calcistici non potranno essere presenti. Ma anche chi non potrà esserci fisicamente ci tiene a ringraziare per l'invito e qualcuno aderirà telefonicamente. Non mancherà ovviamente la tifoseria e ci saranno anche i rappresentanti della Juniores. Il grande evento è in programma lunedì pomeriggio a partire dalle 17.30 al parco della Comasca e Ronchi. In tutti questi anni abbiamo sempre lavorato con grande impegno e abbiamo ritenuto importante valorizzare ciò che abbiamo fatto per questi 100 anni. Ha spiegato la Dino Landi che ha organizzato la giornata assieme a Giancarlo Elies, Gianni Musetti, Antonino Maccarone, Giuseppe Ianni con la collaborazione di Mauro Balloni, presidente dei vetiranni dello sport e di Tutto Gare e vari sponsor, tra cui la Iglom di Emilio Ricci, nipote del protagonista a cui è intitolato Il Club, nato negli anni 60. Gli organizzatori hanno ricordato, e lo faranno lunedì, Walter Bigini, per anni presidente del club, venuta a mancare nel settembre scorso. Lunedì pomeriggio a chi ha fatto parte della storia bianconera sarà consegnato una pergamena personale, saranno proiettati filmati e sarà anche visibile una sorta di mostra che ripercorrerà i momenti e le persone più significativi formata da 26 pannelli da un metro per 70 centimetri. Hanno risposto tutti con grande entusiasmo e riconoscenti per quanto hanno ricevuto da massa, ha aggiunto Aladino Landi. Infine un accenno a quanto portato avanti dal club negli ultimi anni anche a livello solidale. Sono stati adottati bambini a distanza, portati studenti allo stadio e anche in trasferta sono stati fatti incontri nelle scuole. Dopo la processione di questa sera continua domani la festa di Maria Madre del Buon Consiglio alla chiesa della Madonna del Monte di Massa. Per tutta la giornata ci saranno parrocchiani in piazzetta e il mercatino di col diretti. Dalle 15 attività didattica per bambini e ragazzi e alle 18.30 il canto solenne del Vespro e la narrazione sulla fresco della Madonna del Monte a cura di Linda Petrocchi. La festa al Prado ha il patrocino del Comune di Massa ed è organizzata in collaborazione con Coldiretti, Circolo Gustoso e Comunità Albanese. E allora andiamo adesso a scoprire a chi avete fatto i vostri auguri. Grazie a tutti. La regione toscana ha emesso un avviso di criticità codice giallo per la giornata di domani, domenica 5 maggio. Già nel corso della notte è previsto un peggioramento a partire dalle zone di nord-ovest con piogge temporali che nel corso della mattina si estenderanno a gran parte della regione. Le precipitazioni saranno comunque più probabili e frequenti sulle zone centro-settentrionali, in particolare sulle zone appenniniche. Nel corso del pomeriggio previste schiarite, mentre le precipitazioni continueranno sulle zone appenniniche, specie sui versanti orientali, possibili localmenti e temporali anche forti e possibili anche colpi di vento e grandinate. A partire dalle zone di nord-ovest e in estensione poi le altre zone centro-settentrionali nel corso della mattinata. Mari con moto ondoso in aumento fino a molto mossi già nel corso della mattinata, ma per ogni approfondimento vi lascio come tutti in weekend in compagnia di Paolo Lunini. Quindi io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento con le informazioni di Antenna Te torna lunedì, quindi buon proseguimento e arrivederci a tutti. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend. Siamo alle soglie di un evento decisamente anomalo per il periodo, infatti l'instabilità e il clima fresco e ventoso delle scorse settimane culmineranno domenica con l'ingresso di un nucleo di aria molto fredda per il mese di maggio che determinerà non solo una forte instabilità con rovesci temporali e forti venti, ma soprattutto il ritorno di nevicate, come vedremo nel dettaglio durante la puntata, a quote decisamente basse per il mese di maggio. Un evento non eccezionale, già capitato in passato, ma sicuramente anomalo e con difficoltà lo ritroviamo negli archivi degli ultimi anni. Dal nostro quadro sinottico notiamo che l'area mediterranea, in generale il centro Europa, è interessato da un'area di bassa pressione che appunto influenza il tempo in questi giorni con instabilità. Ma quello che ci interessa maggiormente lo vediamo qua più a nord, con questo flusso di aria molto fredda di origine artica, attualmente nei pressi della Scandinavia, ma che nelle prossime ore e in particolare, come dicevo, domenica, si getterà fin sul Mediterraneo aggirando l'arco alpino. E questo appunto determinerà un vero e proprio colpo di coda invernale con brusco abbassamento delle temperature e diffusi fenomeni di maltempo. Ed eccoci alla tanto attesa previsione per domenica, giornata dai connotati decisamente anomali per il mese di maggio. Andiamo quindi con ordine. Fra la notte ed il primo mattino avremo la fase di maggiore instabilità, con delle precipitazioni diffuse a frequente carattere di rovescio o di breve temporale che attraverseranno tutta la provincia da nord verso sud, risultando comunque più consistenti, più intense a ridosso dei rilievi, soprattutto lungo l'Appennino. E qua notiamo il fenomeno più eclatante che sarà la neve, che cadrà anche in maniera copiosa, attesi diversi centimetri di manto a quote via via più basse. Pensate che sull'Appennino, quindi le zone al confine con l'Emilia, un accumulo di neve potrà raggiungere tranquillamente i 7-800 metri anche più in basso sul versante parmense e reggiano, mentre sul versante marittimo delle Apuane un'imbiancata quantomeno arriverà a 1000-1200 metri. Da segnalare però che a causa di questa forte instabilità dovuta a questo acceso contrasto termico saranno possibili delle grandinate anche a quote molto più basse. Poi dal pomeriggio il nucleo di aria fredda lentamente si allontanerà, avremo sì una residua instabilità con ancora dei rovesci in montagna, qualche fiocco di neve in rialzo oltre 1000-1300 metri, mentre sulle zone pianeggianti e costiere le precipitazioni si attenueranno, verso sera forse anche qualche parziale schiarita fra la costa e la bassa lunigiana. Un clima decisamente freddo per il periodo, le temperature massime in pianura difficilmente supereranno i 12-14 gradi e a acuire ulteriormente la sensazione di freddo ci penserà il vento, il vento forte di tramontana, quindi da nord-nord-est, con delle raffiche in particolare al mattino e nelle valli esposte della lunigiana. Quindi davvero avremo tutti gli ingredienti per una giornata che assomiglierà più al mese di febbraio e primi di marzo rispetto a quello di maggio. Bene, per quanto riguarda infine il mare, risulterà mosso, localmente anche molto mosso a largo. Avviandoci alla conclusione diamo poi uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Lunedì avremo un rapido e deciso miglioramento, un ritorno fin dal mattino a cielo sereno o poco nuvoloso e l'atmosfera terza, soleggiata, permetterà di ammirare lo scenario decisamente insolito per il periodo delle nostre montagne imbiancate sia a Puane che a Pennino. Le temperature si rialzeranno nei valori diurni anche grazie al maggiore soleggiamento, poi però dopo il tramonto caleranno sensibilmente e infatti martedì mattina sarà una mattinata molto fredda per il mese di maggio. Addirittura non escludiamo il rischio di locali brinate, gelate nelle zone interne intorno all'alba, quindi occhio alla vegetazione, agli alberi da frutto in alcune zone interne, ad esempio della lunigiana dove appunto le temperature minime potranno avvicinarsi allo zero. Poi nel corso della giornata di martedì la nuvolosità tenderà lentamente a riaddensarsi, soprattutto a ridosso dei rilievi, ad annunciare un possibile moderato e temporaneo peggioramento mercoledì con molte nubi e anche qualche debole pioggia, soprattutto sulle aree montuose. Per il momento ci fermiamo qua di carne al fuoco, come avete visto ne abbiamo messa tanta, l'atmosfera rimane davvero molto dinamica e quindi anche per questo motivo sono d'obbligo gli aggiornamenti meteo che potete consultare collegandovi al sito www.meteoapuane.it. Ci fermiamo qua, non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!